...e' la sua parte, tra i suoi parenti e in casa scuola, e non in posto, e poi abbiamo la differenza, e poi in ogni messina, e qui stiamo facendo loro. Si fanno tante domande, o che si vedevano a vedere, non conosciamo tutti i suoi parenti, ma non conosciamo tutti i suoi parenti, ma non conosciamo tutti i suoi parenti, e che Sto assagerando? Volete dunque che Mirko riceva il battesimo nella fede che insieme abbiamo professato? Sì. Mirko io ti battezzo nel nome del padre, del figlio e dello spirito santo. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Mirko! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.